Il Vescovato non è un'onorificenza, è un servizio. E questo Gesù lo ha voluto così. Non deve esserci posto nella Chiesa per la mentalità mondana. La mentalità mondana parla di ma questo uomo ha fatto la carriera ecclesiastica e è diventato Vescovo. No, no, nella Chiesa non deve essere posto per questa mentalità. Il Vescovato è un servizio, non un'onorificenza per vantarsi. Nella catechesi dell'udienza generale di questa mattina, tenuta in piazza San Pietro davanti a 20.000 fedeli, Papa Francesco ha parlato così del Ministero Episcopale, espressione della Santa Madre Chiesa Gerarchica. Ha sottolineato che attraverso questi fratelli scelti dal Signore la Chiesa esercita la sua maternità e che i tanti Vescovi Santi ci mostrano che questo Ministero non si cerca, non si chiede, non si compra, ma si accoglie in obbedienza, non per elevarsi ma per abbassarsi. È triste, ha aggiunto il Papa, quando si vede un uomo che cerca questo ufficio e che fa tante cose per arrivare là e quando arriva là non serve, si pavoneggia, vive soltanto per la sua vanità. È invece bello concluso quando i Vescovi con il Papa esprimono questa collegialità e cercano di essere più servitori dei fedeli, più servitori della Chiesa. Lo abbiamo sperimentato recentemente nell'Assemblea del Sinodo sulla Famiglia. Al termine dell'udienza, Papa Francesco ha annunciato che il 21 giugno prossimo si recherà in pellegrinaggio a Torino per venerare la Sacra Sindone e onorare San Giovanni Bosco nel bicentenario della sua nascita.